Partita la prima semisimale, la prima patteria di qualifica sul percorso che abbiamo ancora già sentito che stiamo facendo parte ma adesso potete vedere che si può avere le persone in maniera di condizione che si può avere le persone andiamo a transitare davanti noi in questo momento e vorrei ancora che per avere la testessa matematica di poter disfrutare la finale bisogna vincere la prossima battaglia come si può avere un'attività come si può avere un'attività che poi saranno recuperati i sette individui durante le loro spalle fino alla campana un lungo giro anche per questi atleti in questa gara spesa in questa gara di velocità con una distanza maggiorata rispetto a quella del distinto dei precedenti era scoppiata ci può dire che prima erano 500 minuti noi ci siamo su mille dei tre spazi il gruppo provincia viva anche Stanzi il gruppo provincia in questo momento pronti a lanciare l'esplizio in conclusivo la valenza finale dalla garantia l'Italia per prima il discorso di rientrare nella finale e anche i 500 milioni che verranno poi recuperati a prendere via anche la semifinale numero due Baroni Giove la presentiamo Valentino Ardo e le paraoni a questi concorrenti sul percorso di gara le vediamo in bocca e la curva in questo momento tra poco le brani saranno davanti a noi facciando sull'altra guardia con due giuri alla conclusione due giuri al corbine partendo la tristante per tutti gli amici in gara sono difensamenti alla conduzione della prova per un gruppo che rimane come quindi sta via con l'impatto almeno per le prime quattro posizioni del ricatto della cinto concorrente della batteria e quindi già al passaggio della campana per il primo giro continuando a scorrere il gruppo di amici è stato sopra avanzato se non vediamo male proprio in questo frangente di gara qui non corretto comunque ancora stanzi ravvicinati adesso si è ridotto il prezzo in testenza quindi con ogni probabilità la valenza finale che è avvicinata da questi tre a tre è un vero prezioso questo posto di un treno di un treno di un treno di un treno dalla matematica questa che viene guadagnato la finale della gara e ne schiude anche che questa seconda batteria con le storie appartenatori di Torino è presente sul tersporto ho preso qui intanto anche la finale dei mille metri di sprint in categoria junior e basile anche in questo caso come nella gara ricche evidentemente incitata la vettura iniziale è praticamente blanda per quanto riguarda i sottorrenti di gara vogliamo affrontare adesso il passaggio dei due giri alla conclusione una fase di studio una fase dove la progettata per esempio i massimi diretti ma dove si cerca la migliore posizione per poter controllare i diretti avversari e contemporaneamente collocarsi in una buona posizione che possa garantire comunque un allungo la zappata finale in prossimità del traguardo che si fa sempre più vicino perché lo ricordiamo che era spinto un po' più lunga che era in normali ma non così lunga perché si tratta solo di rilemente questa zappata è già arrivata infatti è aumentata consideravolmente l'andattora tutti però vengono aggrappati a chi fa da battistrare in questo caso si tratta di Roberto Simone tra volte di Cancun che è talonato però in modo molto molto rappicinato da tutti gli altri concorrenti di Lara il gruppo sta transitando sul percorso che è il mio contraposto a quello del traguardo vediamo di adesso in curva ancora situazione di grande equilibrio siamo in prossimità del traguardo con il filino che è stata lavorata proprio l'uscita riposa dentro l'arrivo sul traguardo che chiude e completa anche questa anche questa